Il mondo della lirica piange, la scomparsa di Carlo Bergonzi, il celebre tenore parmese e considerato il più importante interprete verdiano al mondo. Bergonzi aveva 90 anni, compiuti lo scorso 13 luglio. Si è spento all'Istituto Oxologico di Via Mosebianche a Milano. Originario di Vidalenzo, di Polesine Parmese, Bergonzi è stato protagonista di una straordinaria carriera. All'età di 16 anni inizia gli studi come baritono al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove segue i corsi di Ettore Campogalliani. A 19 anni, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è internato in un campo di lavoro forzato in Germania. Al termine del conflitto torna in Italia e riprende gli studi a Brescia. In un'intervista rilasciata ad una stazione radio americana, Bergonzi indica nel 1947 l'anno del debutto in un piccolo teatro parrocchiale a Varedo, vicino a Milano, nel ruolo di Figaro nel barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, cui segue l'esordio nello stesso ruolo in un vero teatro, a Lecce. Dopo il successo negli anni seguenti nei teatri italiani, nel 1956 avviene il suo lancio internazionale con l'Aida al Metropolitan di New York, dove lavorò per ben 33 stagioni. Per nove stagioni, invece, si esibì alla Scala di Milano e per 21 all'Arena di Verona. Ma tantissimi sono stati i palchi prestigiosi nazionali e internazionali calcati dal grande tenore. Ha terminato la carriera artistica nel 1995 con una serie di concerti a Vienna, a New York, alla Scala di Milano e al Teatro dell'Atene di Parigi. Il 17 dicembre del 2011 il Consiglio Comunale di Milano lo insignì dell'Ambrogino d'Oro. Era cittadino onorario di Busseto e di Parma. Lo scorso 12 luglio, in occasione del suo novantesimo compleanno, Busseto, il paese natale di Verdi, gli aveva dedicato un concerto in piazza da parte dell'orchestra filarmonica italiana, diretta dal maestro Fabrizio Cassi.